Carion, Giorreale, che film ha fatto? Andiamo a Catania. Si tratta di un thriller horror, parla di una scatola infestata dove all'interno appunto c'è un Carion che viene trovato da una bambina nel giardino di casa. Diciamo che da quel giorno la sua vita diventa un caos perché lo spettro che infesta il Carion la perseguita e in qualche modo ne influenza il carattere, il modo di reagire alla vita e a tutto. In tutto questo c'è la zia che in qualche modo cerca di creare un filo di comunicazione con la nipote che però in qualche modo non riesce a trovare la via per riuscire a tirarla fuori da questa situazione un po' soprannaturale. Il pubblico uscita a sala, il Carion. Ma inizialmente pensavo così invece poi carino. Molto carino, onestamente ci aspettavamo tutti un po' di più. Ehi, ho bisogno di parlarti. Vorrei farti vedere un video della seduta di stamattina. Bello, particolare, non è solo il solito film. È carino, è abbastanza interessante però può essere meglio. Elisangelica Ceccarelli, Valerio Caprara, Francesco Puma. Firenze, Elisangelica Ceccarelli. Allora, io ho apprezzato di questo film il fatto che il regista non abbia osato proprio più di tanto appunto. Non ha mostrato eccessivi effetti speciali, non ha cercato di spaventare più di tanto ma si è affidato molto alle sensazioni, alle emozioni. E qui secondo me il film è riuscito. Una nota secondo me dolente è, ahimè, il doppiaggio e un po' anche la recitazione. Francesco Puma. Ma John Riel è vero che è un regista che ama molto l'horror ma il film affronta anche il tema dell'elaborazione del lutto perché la piccola protagonista all'età dei 6 anni si ritrova orfana dei genitori. Ed è vero che è un film che è girato in piena economia ma che risulta in alcuni passaggi secondo me ancora più, risulta più efficace di tanti blockbuster dell'horror americani. Valerio Caprara, Napoli. Beh, io l'ho trovato volenteroso affrontando un genere che è così frequentato, così amato e anche, voglio dire, pauroso anche se io sono particolarmente scosso in questo periodo mi ha fatto più paura l'arbitro Chakir di Porto Roma. A proposito di barra, allora Enrico Magrelli a...